Estra, con Estra Energie, che si è giudicata ai lotti 6 e 8 del bando Consip, continuerà nel 2021 a fornire gas per riscaldamento alle amministrazioni regionali di Toscana, Umbria, Marchi, Abruzzo e Molise. Estra diventa proprietaria di Ecos, acquisisce il controllo totale della società che gestisce l'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi da 85.000 tonnellate, che sorge nel comune fiorentino di Barberino Tavarnelle. Parte da Civitella in Valdichiana, con la piantumazione di 800 piante a Badia del Pino, Mosaico Verde, il progetto di riforestazione urbana di A0CO2, sostenuto da Estra, che proseguirà ad Ancona e Calenzano. Estra contribuisce al recupero della Gualchiera di Coiano, l'anticopificio alla periferia nord, testimonianza dell'identità produttiva di Prato, per il quale il comune programma lavori urgenti di consolidamento. Grazie a tutti!